grande benvenuto a tutti coloro che sono già connessi vi facciamo sempre due tre minuti di di attesa di intro così riprendete un po il clima diretta tanti arrivano durante la live ritarda date da noi dei ritardatari ma quanti ritardatari invece poi che sono discono a un quarto e venti e via dicendo vedo 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 i nostri ospiti che oggi sono parecchi vedo 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 che qualcuno ha già rinnovato l'abbonamento la gobba 82 gab darren dp axe 982 qua su twitch in diretta potete dovete abbonarvi se avete prime è gratuito associate il profilo twitch al vostro profilo di amazon prime e gratuitamente potete abbonarvi che vuol dire non vedere la pubblicità venire in diretta con noi scrivere nella chat venire nel gruppo telegram vincere premi e chissà cos'altro no non è vero non facciamo quasi mai dei concorsi a premi se chiro 0909 appena sottoscritto l'abbonamento se no tre caffè al mese vi abbonate e tutti i benefit restano quelli ma vi dimenticate perché a quel punto l'abbonamento si rinnova automaticamente mentre se lo fate con amazon prime dovete ogni mese per carità l'app ve lo ricorda però stare a schiacciare se no non potete godere dei benefici ovviamente è un canale aperto a tutti non siete obbligati ad abbonarvi tanti ci seguono diciamo come curiosi o comunque senza fare quello scatto in più per essere davvero parte della community invece dovreste farlo ringrazio anche tutti coloro che seguono i nostri spezzoni su youtube ma soprattutto coloro che fanno questo canale sono i nostri ospiti signore e signori oggi torna a trovarci claudio giugliani e questo per me è un enorme piacere ed è un enorme godere soprattutto per i tuoi sfondi che sono sempre molto belli claudio ciao ciao luca buongiorno a tutti ma è come oggi la maglietta e questa è quella di chiellini del trentesimo scudetto e questa è quella di del piero degli stadi dei famosi stadi insomma quindi oggi è il suo compleanno tanti auguri ricordiamoci sempre di quelli che sono stati nel momento del bisogno non di quelli che sono spariti perché ogni tanto invece noi ci ricordiamo di quelli che sono spariti e cibi dimentichiamo di quelli che invece ci sono stati al momento del bisogno ma siamo siamo fatti strani tutti siamo così ritroviamo lorenzo io vino che da siato già ma lo conoscete benissimo quindi non è bisogno di presentazioni ciao lorenzo ciao buongiorno a tutti ciao luca simone tassara da milano e ovunque perché lui spesso il nostro uomo in trasferta quando giocavamo le coppe simone ci raccontavi la juve collegandoci con noi da ogni parte d'europa e invece quest'anno cosa fa in settimana tu simone niente giardinaggio queste cose qua non guardi le altre giocano le altre non guardo il calcio minorio non hai guardato la longobarda prendere un punto a napoli no l'ultima partita che ho visto è stata la finale di champions da quella bella cesta cesta mirko nicolino anche con noi buon pomeriggio ben ritrovati grazie mirko un gradito ritorno dicevi simone ti ho interrotto poi andiamo al dunque ragazzi un altro ieri sono nero c'era il concerto di lion gallagher e ha dedicato una canzone proprio per l'occasione insomma no ma loro sono ovviamente super super citizen lo sappiamo quindi noi noi l'ha fatto il para striscione ha messo ha fatto vedere la bandiera di quelli la milano a sì essi la finale di champions la più bella partita del 2023 ma 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 posso dire che anche in quel caso che che fatica anche la venda ma ce l'abbiamo ce l'abbiamo il nome del simpaticone che a bonucci gli ha detto e dalla juve alla longobarda sei finito cioè piacerebbe intervistarlo perché poi dopo è la longobarda è vero però devo dire che è scappato un sorriso anche a leo si è scappato un sorriso intanto gli è scappato anche un punto però che non gli sia scappato altro però il punto è grandissimo sì l'abbiamo visto abbiamo visto risultato che potrebbe non compromettere la qualificazione del napoli ovviamente al speriamo per loro perché poi se la perdono nel punto della longobarda potrebbe usato barda che veniva da 12 sconfitte consecutive ricordiamo claudio 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 qui c'è chi ti ama tipo john cena c'è no perché ti sembra che tu a volte l'uomo lotti con noi lotti contro di noi lotti con il pubblico l'ottico però tanti ti amano lotto anche con me stesso quando sono in casa con te stesso esatto ci mancherebbe allora io voglio voglio partire dalla fine è ufficiale il rinnovo ma insomma sapevamo che che era questione di ore avevamo avuto tutti i dettagli già cammin facendo anche grazie a romeo agresti ancora nella giornata di ieri comunque locatelli duemila e ventotto guadagnerà poco più di tre milioni netti all'anno che non sono pochi e non sono pochi di questi tempi un riconoscimento importante da voi voglio sapere quanto c'è di total come dire di acquisito di meritato quanto c'è magari di una vecchia promessa anche di un contratto perché era già le aveva già leggiato questa storia per cui presto a locatelli comunque andrebbe fatto un nuovo contratto dall'altro lato c'è anche un locatelli che in questo salto di stabilità stabilità calcistica che ha fatto non voglio parlare uso questa parola di stabilità calcistica per 3 milioni e qualcosa detto che il cuore bianconero la corazza bianconera la volontà e la tenace io voglio ancora qualcosina in più ma già quest'anno poi tra due tre anni devoluti ma ancora quest'anno io ancora qualcosa in più da parte di manuel lo dico subito ma voglio che sia da stimolo dal vostro punto di vista insomma è un rinnovo strategico avete capito che ce ne sono in ballo tanti o quello di locatelli ha un significato leggermente diverso e più significativo di altri claudio mirco parto dai giornalisti ma direi che è un mi sta venendo fuori gioco invece che rinnovo non so perché ma sono ancora sei fermo a ken no io so sì sono fermo l'open bar che non ho visto su nessun giornale stranamente ma c'è frame avanti frame indietro si frema avanti frame indietro giustamente sono quattro giorni che si parla di altro di quella cosa interessa solo noi poi vedrai che il 26 novembre inizia a interessare magari anche altri secondo me detto questo mi sembra un fuorigioco se vedi il fuorigioco non riesco a uscirne un rinnovo posizionale è più forte di me cioè più no perché c'ho questa novità io ogni giorno ne scopro e allora dacci sta novità la novità è che se guardi e che se guardi l'azione di ken al di là del frame mezzo mezzo tacco tutto quello che abbiamo visto ridicolo perché ormai abbiamo capito come si diceva da tempo che semi automatico nasconde il fatto che non è automatico e quindi non è attendibile dal punto di vista tecnologico perché c'è sempre l'errore umano ma al di là di tutto questo se guardi l'azione è un contrasto mentre che ne rientra centrocampo ed è il giocatore del verona che va a deviare il pallone poiché lo riconquista quindi lo rimette pure in gioco nel dubbio tu pensa non l'ha detta nessuno sta cosa io non vorrei allora non ho capito della tua descrizione di cosa si tratterebbe devo dire che però se la partenza è irregolare non viene sanata da un eventuale contrastino tocco e no non è la partenza vanno no vanno tutte le due sulla palla e l'altro la tocca per prima andando lui a incidere andando lui a incidere perché è presente in zona palla quando eventualmente l'avversario avesse davvero toccato prima e no perché se lui arriva per primo sul pallone e quindi lo vuol giocare lui poi dopo glielo ruba a ken hai sanato è una pressione l'ingaggio io arrivo da posizioni irregolari in ingaggio sì ma se io l'altro che non faccio intervista sul gioco la famosa attacchi in disto possession phase è la famosa attacchi in disto possession no 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 dicevo qui abbiamo un sacco di gente che scrive ragazzi è il montero raffaele se non devi dalla tua domanda non voglio farlo ragazzi ragazzi le boiate non le dico andatevi a rivedere l'azione andatevi a rivedere l'azione chiedete a qualche arbitro se tocca per primo il pallone il giocatore del verona cosa succede parte un'altra azione se per primo giocatore del verona allora mirco tocca a te ho detto prima i giornalisti poi voglio andare da simone da lorenzo capire quanto quante riflessioni hanno fatto davvero su queste situazioni di ken e quanto invece sono già sul cagliari mirko ma su catelli anche su ken io ritengo ci sia confusione anche perché fino a qualche tempo fa c'è stato detto che i frame siccome sono tanti potete recuperare anche una mia conversazione con luca amarelli su twitter il frame quello valido è solo il primo è solo il primo mentre quelli successivi al primo non devono essere presi in considerazione invece nell'episodio specifico ha preso in considerazione l'ultimo e e luca dice ai precedenti in questo caso non non fanno per allora o vale il primo non valgono quelli dopo o vale l'ultimo e non valgono quelli prima cioè delle due luna poi io vi dico la verità l'unico modo di uscirne da questa cosa è se il fuorigioco è semiautomatico e c'è un frame scelto dalla macchina che valga sempre quello ma per tutti perché se tu inizi a fare una discussione anche su quello allora abbiamo un problema grosso però abbiamo scoperto una cosa clamorosa perché ci hanno spiegato tutti per mesi che era oggettivo il fuorigioco semiautomatico ed era per tutti invece non è così perché c'è una signorina dietro che parla che fa tic tic e che ferma l'immagine in base a un frame allora non è così cambia il mondo esattamente ne parlavo poco fa in privato con guido vaciago cioè quando c'è questa conferenza stampa di rocky che ha presentato il fuorigioco automatico ha detto testualmente d'ora in poi il frame sarà scelto dalla macchina e sarà infallibile e invece siamo abbiamo capito che non è così allora io io per quel poco che posso aggiungere a questo dibattito la mia l'ho detta l'altro giorno trovate il video su youtube c'è stato no lo aggiungo dicendo questo delle parole di rocky sicuramente la parte che sapeva sappiamo per con certezza essere discutibile e l'ultima cioè che sia infallibile che ci sia la c'è come c'è quest'anno ci sarà una macchina quindi non rompeteci le balle a noi arbitri era la cosa giusta da dire ci saranno delle cose delle cose che ci piaceranno le cose piaceranno meno la scelta del frame non è nostra stop infallibile o no abbiamo un metodo oggettivo creato tra l'altro scusami ma anche se è infallibile no però anche se nel caso di ken viene scelto dalla macchina sì ma anche se sceglie il frame della macchina anche se sceglie il frame della macchina differenza dei mondiali dove si prendeva il sensore dentro il pallone quando si stacca dal piede in italia non c'è il sensore dentro il pallone quindi è fallibile anche quello detto che a noi avevano detto che c'era il sensore e invece no nelle sessioni io ricordo nell'introduzione lo ricordo perché ora a milano che in quei giorni e quindi con l'intera redazione ascoltavamo quelle che erano un po le indicazioni della dell'aia c'era stato presentato a bocce ferme poi durante come sistema che aveva il sensore cioè che quindi c'era invece 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 la macchina in base alle dinamiche alle prospettive alle traiettorie eccetera stabilisce senza un sensore ma la macchina e a me va bene come metodo però il metodo macchina finito questo non è l'equivalente del non è sensore e non infallibile però luca quello che ti sto dicendo io è che se non c'è il sensore anche il metodo macchina che prendi non è uguale per tutti perché se non corrisponde a un sensore del pallone stile con light technology vuol dire che quello che la macchina prende c'è qualcuno che stabilisce col sistema macchina che si prende da lì cioè quando il pallone si è già staccato da bremer no però per esempio nel dialogo che abbiamo ascoltato se non io devo dire l'ho ascoltato tre volte non trenta quindi però mi pare che il tecnico faccia presente a il varista faccia presente di e guarda che c'è un frame che è quello che mi ci indica la macchina dice quello del sistema è questo ed è quello esatto non è quello che non dice io col sistema ci mettiamo insieme e abbiamo prodotto che il frame dovrebbe essere questo dice la macchina mi indica questo vuoi verificare quello prima e quello dopo perché cambierebbe tutto una cosa che non è accettabile secondo me però che la spiegazione ufficiale sia viene verificato il frame precedente e viene accertato che non c'è tocco e quindi si prende quello della macchina ma come si fa a dire che non c'è tocco nel frame precedente cioè la palla è già in contatto col piede scusate mio faccio l'allenatore da 13 anni ho giocato a calcio per 20 e oltre e il piede quando impatta col pallone impatta su più punti e quindi soprattutto quando colpisci magari a giro come si fa a dire che bremer nel frame precedente non ha il piede in contatto col pallone soprattutto dalle dalle immagini che abbiamo è impossibile quindi ci sta a dire abbiamo scelto il frame della macchina non ci sta a dire abbiamo verificato quello precedente e non c'è tocco come si fa a dire che non c'è no però però devo dire questa è una spiegazione postuma quella che esatto mentre se io quando l'altro giorno ho detto ascoltando in maniera vero il dialogo in salavar mi sento di dire che è stato un dialogo professionale dove non ho sì 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 devo dire questo io ho percepito poi che ci siano sempre delle spiegazioni da dover dare goffe ma che diano le spiegazioni più semplici ragazzi è semi automatico la macchina ci dice il frame noi non ce la sentiamo di sventire la macchina per cui ci dispiace per la juve ma il fuorigioco di un tacchetto ma va bene ma a noi ci dispiace dalla juve professionalmente chi mi garantisce che nelle altre partite quando mi hanno annullato il gol di ronaldo per un'unghia tre di morata in una stessa partita lo stesso di chi mi garantisce che gli hanno preso la macchina hanno preso il frame prima al frame dopo me lo garantisce qualcuno tight so tight pioggia di tight voglio sentire lorenzo fare lorenzo ricordami che ore sono adesso di assiato no è mattina non è una cosa così eroica tipo c'è della gente che lo fa tutti i giorni per andare a lavorare insomma sono le 5 20 di mattina ma tu lo fai per noi però noi ti dobbiamo un grazie non so se faccio sicuramente per voi ora senza fare l'eroe la mattina mi sveglio anche mediamente presto ma questo è un piacere allora tu con cosa ne sei uscito e poi ragazzi di locatelli grande ma pioggia di vita loca qua in chat abbiamo la emoji vita loca vai lorenzo su locatelli anzitutto io sono contento e e se lo merita c'è locatelli è uno che giocava con dei zerbi ed era il preferito di dei zerbi da quando alla juventus con allegri è uno dei preferiti di allegri nella nazionale con mancini si è ritagliato una spazio importante spalletti chiaramente lo vede questo ci dice una cosa che questo è un professionista serio manuel locatelli è uno che si cala nella parte e fa il cento per cento per fare quello che serve alla squadra per quello che l'allenatore gli racconta quindi è chiaro che non è più la mezzala che eravamo abituati a vedere a sassuolo ad esempio però è anche vero che si sta costruendo si sta costruendo una hai usato il gerundio dando ragione alla mia tesi iniziale c'è assolutamente è ancora in costruzione locatelli non è un regista in questo momento però è uno che può stare bene davanti alla difesa sono due due cose diverse non è fare il medianaccio anche dentro la difesa anche dentro la difesa non è fare il medianaccio però è un qualcosa che secondo me in costruzione si è adattato molto bene a giocare davanti alla difesa facendo un ruolo di interdizione che per lui ormai il 70 l'80 per cento è quello che fa in campo però noto ultimamente soprattutto quest'anno che sta cercando di fare un qualcosa di più anche per evolversi in quel ruolo nella fase di possesso fa qualche lancio in più fa qualche apertura in più è uno inamovibile ma soprattutto è uno juventino non perché tifi la juventus ci gioca cioè in generale quello che vedo io in questa squadra e in questa catena di rinnovi e che la prestazione collettiva che cresce ottenuto il risultato in diversi modi e che abbiamo un sacco di calciatori che sentono la juventus cioè locatelli sente tantissimo la juventus rabbio da quando è che cambia rabbio cambia da quando si sente juventino dal derby d'italia si sente bremer io lo vedo molto più juventino cioè questi sono giocatori che stanno nel ruolo si carano nella parte si prendono mi verrebbe no è tutto vero mi verrebbe da dire che se giocano bene noi li percepiamo juventini se giocano male li percepiamo di qualunque di qualunque altro che pare in un grande momento meno male perché di maria non è stato juventino nemmeno un giorno e di maria è uno dei miei calciatori preferiti del secolo se sei nella parte se ti senti coinvolto se ti senti responsabilizzato dai anche il 101 per cento se sei lì tanto per vediamo ma come va una partita da gioco una no tanto è uguale non ti senti parte del progetto quindi su locatelli dico questo non so se volete sentire ancora questioni di var le centimetri anche da parte mia ne possiamo ne possiamo parlare se volete però insomma penso sia stato detto tutto quasi la mia sua opinione simone tu cosa scegli l'argomento ken var o l'argomento loca vita loca tanto da loca secondo me hanno fatto bene assolutamente a rinnovarlo poi se valga più o meno di 3 milioni lascio ad altri decidere tra i virgolati andava fatto andava fatto non era in scadenza non creiamo però la juventus ha voluto stabilire allora diciamo la juve sta rifacendo ex nuovi contratti perché vuole proprio cambiare la tipologia del contratto che non questo che so io ad aggiuntoli anche per una questione di ammortamento di ammortamenti ma anche per come erano scritti quei contratti evidentemente sulle quali su dici che non ci sarà più nessuno che improvvisamente guadagna 12 milioni letti all'anno di cui 9 sono di bonus prego scusa scusa simone noi abbiamo assolutamente una necessità di rifondare un nocciolo duro di italiani barra juventini quando dico juventini può anche essere il rabbiò che diceva giustamente prima lui che che è assolutamente renzo e juventino così come all'epoca c'erano i desciampi di montero che non erano italiani ma era assolutamente gobbi a me è piaciuto la mini intervista che ho visto sui social ieri di da zone di miretti in cui si chiedono quindi se uno gobbo sia assolutamente dalla nascita da sempre ecco noi adesso mi rete l'abbiamo criticato poi per carità ha segnato domenica anche lui ha tanto ancora da migliorare e dimostrare per carità ma abbiamo bisogno di formare un gruppo con queste persone all'epoca avevamo preso tacchinardi ora lo catali mi sembra un tacchinardi un filo inferiore ecco cioè rispetto al primo tacchinardi simone mia profezia di due anni e mezzo fa eh quando arrivò e qua abbiamo lorenzone che lorenzo è tremendo lui le vede tutte non so come fa prima dopo di notte di mattina lui poi mi arriva e io dissi noi prendemolo cateli che a me sembrava un fiorettista io ho detto allora c'è allegri è arrivato allegri perché c'era l'allegribis ho detto diventa tacchinardi e qualcuno dice ragazzi tacchinardi non è cioè ok non ho detto pirlo detto tacchinardi ma come è diventato quel giocatore lì tra l'altro vabbè non dico cosa ho pensato ieri tacchinardi che tra l'altro mi ricordo benissimo veniva contestato sì però poi alla fine giocatore con tante tanti suoi cicli diversi dentro ai uve nei tanti anni però dei momenti in cui è stato giocatore chiave però intendo dire anche proprio come ma mansioni in campo tacchinardi te lo ricorda dai tu Claudio arriva un giocatore bello primavera atalanta solo testa alta lancio qua passaggetto la geometrico bello non un contrasto pulito finiva la partita non aveva neanche i calzettoni sporchi ma aveva giocato benissimo era il miglior primavera d'italia e arriva la juve e poi parte benissimo poi pian piano deve riadattarsi perché arrivano dei campioni perché siamo delle cose diverse perché se no non giochi perché ci sono gente che e lui però ha sempre avuto questo attaccamento incredibile ma il parallelo ci sta perché allora come detto tu tacchinardi poi ti ripeto me lo ricordo benissimo era uno dei giocatori che subivano ci fossero stati i social all'epoca auguri perché era uno di quelli che subiva più critiche dei nostri tifosi ma perché aveva appunto tanti campioni davanti oggi locatelli quei campioni davanti non cedì a più e quindi è chiaro che emerge in un centrocampo che non ha quella forza quella classe e quella e quello stato di grazia cui c'eravamo abituati secondo me locatelli che un ottimo giocatore se domani abbiamo pirlo pogba e didal probabilmente titolare non lo fa e no dice pure si gioca è più facile se gioca è più facile perché tacchinardi però non parte come dig diciamo la passa di dan ed è fatta era una cosa di sconte deschamp zidane paolo sto prima appena arriva della fase in cui gioca praticamente insieme a zidane al centrocampo da degli anni di ancelotti e lippi ecco del secondo rischio siamo già nella terza vita di tacchinardi alla juve nel senso che lui ha avuto anche delle annate dove totalmente sparito dai radar però ha saputo riprendersi era uno che pur di non andare via dalla juve si aggrappava al palo della si sport e c'è nel senso voglio dire questo è certo è certo alla fine ragazzi quante sono le presenze di tacchinardi con la maglia della juve 250 alza 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 va bene jugovic top ci siamo persi in questo in questo parallelo ma ma nel senso secondo me dicevo locatelli deve essere uno dei tanti ma non necessariamente solo già presenti nella rosa della juve dovremmo fare spesa diciamo anche prossimamente e formare un a me ad esempio da fastidio che l'inter abbia preso i vari barelle frattesi perché sono gente che poteva andare benissimo il nostro centrocampo così come di mille altre squadre per carità sto dicendo cose ovvie però secondo me abbiamo bisogno di questi tipi di giocatori formare un gruppo allora poi ci metti di maria o quello estemporaneo che ti fa la la mezza stagione o le due stagioni ma dobbiamo avere un nucleo prima avevamo la bbc anzi le tre bbc all'epoca c'erano i vari conte del piero eccetera non ce ne abbiamo adesso che guarda tacchinardi che vedo qua criticatissimo ama quanti non faceva né a un gol né un assist non serviva niente non esplose devo dire primo anno sembrava fenomeno assoluto è poi giocava difesa centrocampo sembrava un incrocio tra scirea a tant'è che si diceva paolo sosa qua fa fatica a prendere il posto poi è venuto alessio qua in live vi ha raccontato come affrontò quella prima estate dove disse io mi sono fatto furbo non sono andato in vacanza mi sono allenato come un treno quando sono arrivati tutti i campioni io andavo il doppio e allora io ho convinto la juve a tenermi ma anche questo vuol dire essere attaccati a ciò che ti sta passando davanti cioè la maglia della juve no dicevo su questo discorso dico una cosa paradossale tornando più su su locatelli che mi che l'attualità mi trese di più due giorni fa per caso mi imbatto una partita vecchia celsi manchester united perché ovviamente l'idea io adesso quando parli locatelli parlo locatelli fa il mediano non me ne frega più niente del discorso della regia bel mediano visto mezz'ora di un vecchio celsi manchester in alto e giocava io sinceramente alcuni giocatori anche importanti uno un po li rimuove col tempo davanti alla difesa nel celsi giocava obbic ok obbic che poi dopo mezz'ora che giocatore era questo qui cioè che ma mi era anche c'è no so benissimo chi fosse c'è quel mediano pazzesco cioè parliamo di quello che poi abbiamo visto fare a casemiro dopo eccetera obbic e dicevo dentro di me mentre guardavo dicevo se locatelli facesse questo salto va bene non sarà un regista ma noi servirebbe come il pane però grande personalità nel gestire il pallone incontrare ma anche incontrare facendo ripartire intelligentemente la squadra che un elemento che locatelli a volte a cui vedo manuel rinuncia un po adesso firenze è stato un caso estremo come come copione partita ma anche in quelle prima allora se lui si trova in tre quarti ha una bella palla la mette ma a volte dietro devi saper stringere i denti aver quella lucidità giusta per essere anche il primo a mettere fuori il pallone nel modo giusto no e manca la via di mezzo dici tu cioè o fa bene la fase difensiva o in alcune partite quando giocato molto più avanti fa bene quella offensiva però il ruolo di mezzo è un po più complicato insomma fare bene le due cose sì 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 no ma io accetto anche un locatelli ultradifensivo perché mi sta piacendo e devo dire però quella robetta lì attenzione o bimicano uno giocava tre palloni a partita nella metà campo avversaria non so mirco mi sono perso in questa cosa ma a livello tecnico tattico tu cosa ti aspetti come evoluzione da locatelli ma sai cos'è o va bene così difensore no 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 il gerundio ci sta soprattutto ovviamente quando cosa mi aspetto a locatelli mi aspetto che se tu giochi di ripartenza cioè vuoi trasformare le transizioni negative in positive quando sei ripartenza i passaggi che a volte sbaglia le scelte che a volte sbaglia locatelli non le puoi sbagliare quindi in questo deve migliorare oppure deve avere un pochettino di coraggio in più spesso lo vedi a passarsi tanto vicino alla difesa e anziché prendersi la palla indicare lo notate spesso indicare i compagni a guidarla no e invece sarebbe meglio se la prendesse lui e iniziasse lui l'azione un po' più di responsabilità ma in questo in questo può crescere ancora ovviamente ci vuole un po' di pazienza probabilmente locatelli è arrivato da noi come un centrocampista più adatto più adatto al gioco a tre ora giocare come playmaker con due mezzali tra l'altro non proprio mezzali da inserimenti non è bene ragione jazz cioè l'idea e de rossi perché no perché no ci sta mi sembra c'è anche qui nel percorso come punto è un giocatore che può di centrale difensivo aggiunto insomma difensivo aggiunto però uno che sa anche fare però si faceva tanta legna è tanta legna ma ma nelle uscite ti partecipava però se a parte quando impazziva o quando doveva fare il tec tra l'altro credo che locatelli sia l'unico scusami luca abbiamo passato giustamente anche dico è tutta la prima parte di campionato a dire vabbè prima che non era il suo ruolo regista ma poi a dire che visto la partita con la lazio quella doveva essere la via no c'è di un locatelli più alto più proprio adesso lo stiamo retrocedendo dentro la difesa perché abbiamo visto fiorentina juve non io mi auguro che la sua evoluzione non sia guardare le slide delle partite locatelli ha come mansione chiara quella di aggiungersi dentro i difensori quando esce un braccetto ma mi auguro che la sua evoluzione non sia questa esatto capisco allora io devo dire una cosa non so se siete d'accordo ricordate allegri ormai tanti anni lo conosciamo lui non ha mai te che scivolati vi ricordate che l'ottavo con vidal però locatelli credo che sia l'unico dichiaratamente autorizzato nella storia del calcio di allegri da quando allenava l'inter regionale cui è autorizzato fai tec e devo dire che tec che li fa bene e quindi ma è un mago della scivolata ma li sa fare bene c'è li fa ben fatti giusti dire che evidentemente allegri ci vede un fattore giusti sugli arbitri che l'interpretano è infatti perché spesso prende gialli assolutamente inventato firenze allora 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 qua è una statistica di joshua che che non riesco a ricostruire ma bella propongo e va bene la scivolata elegante alla locatelli eccetera eccetera sapete che impazza anche questo avvicinamento a juve inter però in mezzo c'è un turno di campionata ci sono i vento scaglia l'inter frosinone non cambierà nulla l'altro ha già annullato il vantaggio del calendario mi pare di capire no che senso e beh si sono già qualificati nel girone di champions con le giornate di anticipo quindi tu dici è annullato il vantaggio di non giocare le coppe non ha tutti i torti claudione qua il claudione nazionale c'è sempre la la sfumatura giusta come ce la stanno menando che l'unico nostro vantaggio perché obiettivamente siamo inferiori no come qualità di rosa parliamo di scudetto e non dei quarto posto se parliamo di scudetto ce la stanno menando in tutte le sas che la juve invece al vantaggio gioca benissimo dal momento che ieri ti sei qualificato in anticipo nel tuo girone di champions le due partite come direbbe mastro sarri sono due amichevoli e quindi da qua febbraio vantaggio annullato quindi giochiamo alla pari la pari lo vediamo poi dopo il 26 novembre giochiamo alla pari però dal punto di vista con una rosa più ridotta con una rosa più ridotta esatto e a loro non gli ha squalificato nessuno chi non chiede di chiedervi da 1 a 10 quanto credete lo scudetto questa roba questa domanda chi non la farò da febbraio o dal 27 novembre non lo so devo decidere prego scusa mirco no no non stavo aggiungendo niente no ieri sera anche l'autaro martinez ha sottolineato questa cosa cioè l'obiettivo dell'inter era qualificarsi entro la quarta giornata in modo tale da poter avere più risorse da qui poi cosa d'accordo con valore c'è la lotta scudetto cioè tutto questo vantaggio non lo vedo anche perché ad oggi la juventus è senza cinque giocatori poi sai cos'è io non riesco a pensare all'inter perché il cagliari e ragneri ossessiona il cagliari sì poi allegri contro contro ragneri ha vinto una volta sola su cinque quindi sai com'è non mi c'è il ragneri allenava la juve l'ultima vittoria del cagliari con noi allegri allenava il cagliari e il ragneri la juve esattamente quindi non è che mi finitato diciamo che era una squadra in grosse difficoltà recuperato la padula ha rivitalizzato pavoletti altri calciatori che si stanno comportando molto bene quindi io sto pensando seriamente al cagliari perché è una partita serie sarà partita vera eh sabato eh mica mica una scherzo però con motivazioni vere anche nostre assolutamente cioè non arriviamo secondo me con quello strano guado che con cui anche gli anni scorsi arrivavi queste partite dove dicevi dai ragazzi però se la vinciamo eh rianimiamo un po' la stagione non dobbiamo per cioè qua secondo me a livello motivazionale questo juve cagliari cioè juve verona devi fare come il verona non è nel senso che c'è nulla di gol buoni lasciammo stare come è finita però juve verona è il paradigma devi fare quella partita lì sì sì magari dovresti anche far giocare uise secondo me che se lo merita il ragazzo io gatti lo farei riposare ma una cosa che emerge 10 secondi secondo me da queste partite quale che sia la proposta di gioco della juventus che sia quella col verona o che sia l'ultima a cui abbiamo assistito con la fiorentina e che comunque mi sembra che tutti i calciatori ci credano tantissimo in quello che fanno a differenza della percezione che avevamo l'anno scorso ti credo che claudio si riferisse proprio alla diffida oltre che la cugliorità che abbiamo di vedere no perché già c'è andata bene con il rabbio prima del milano vorrei sfidare voglio dire è capito l'insfidabile perché prima del milano ti può anche stare bene che ci va bene ma prima del derby d'italia è un po più difficile siccome gatti è uno che è anche un po soggetto magari a poter prendere l'ammunizione io starei attento la risposta secca risposta secca anzi farò un sondaggio su questo lo chiedo dopo finiamo questo giro su juve cagliari veramente cioè simone tu andrai a vederla o sai già il risultato finale non vado a vederla ma sono assolutamente teso per juve cagliari perché arriviamo motivati sì ma con gli uomini contati a parte l'attacco quindi secondo me dobbiamo stare attenti il gatti è l'unico difidato se fosse l'unico difidato ci sta quello che dice il buon claudio di dire ok gli diamo un turno perché secondo me è fondamentale sarebbe fondamentale averlo contro l'inter perché sicuramente sarà la partita poi bella tosta è vero che non c'è più luca con e quindi sono diciamo potrà evitare di farsi male gatti questa volta però lo metterei con la cagliari secondo me vai partiremo belli tosti e dobbiamo segnare la differenza del verona ma guarda oggi ragnieri non so se ci è o ci fa nella sua conferenza stampa però ha quasi alzato bandiera bianca perché ha detto ci vorrà grande determinazione partiamo già condannati peggio di perdere non possiamo fare e poi come l'ha chiusa questa conferenza claudio era chiusa dicendo sono stato mandato via no ma non è la verità quando finirò di allenare ve la dirò però ha detto sorridere non è stato mandato via dalla juve intendevano se non c'è lui dice sì fui mandato via poi però non è la verità la dirò quando finisco di allenare attenzione attenzione e quindi scusate se non è stato mandato via lui sosterrà di essere stato lui ad andare via lo so io me lo magari la giornata libero ragazzi c'è simone tassara che se segnali ragazzi ce li ha tutte che ce li ha tutte appese qui e le cose no già ragnieri non voglio mai più vedere proprio lorenzo cosa intende ragnieri di marquesi tra serio se la ride se la ride ma guarda che simone è serio è è serio è c'è sì c'è le ho viste tutte quelle di ragnieri al vecchio comunale all'olimpico olimpico tra se che aveva le stampelle paulsa il meglio di alonso cosa rischia la juve dopo le dichiarazioni che un giorno o l'altro ti farà il camaleonte solido di ragnieri dai mi vergogno di quegli anni lorenzo juve cagliari dai tu hai la testa juve inter ti conosco troppo bene sai no 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 hai la testa inter frosinone no io la testa al campionato quindi diciamo che il i tre punti contro il cagliari servono nell'ottica delle 38 partite poi il fatto che la partita successiva sia con l'inter e che siamo a due punti di distanza non è che non faccia differenza eh però i tre punti col cagliari servirebbero in ogni caso se vuoi tenere un passo per mantenerti attaccato lì fare tre punti vuol dire anche che male che ti vada arrivi allo scontro con l'inter a meno di tre punti di distanza anche se l'inter vincesse juve inter è uno x2 inutile dirlo cioè non l'inter è una squadra un po più un po più forte eh però giochiamo in casa possiamo però ecco juve cagliari è una partita importante io non sono d'accordo con simone sul ranieri ma è un'opinione mia personale insomma secondo me fece fece una buona annata per quella che era la juve dell'epoca insomma e poi in generale la carriera di di ranieri io ho molto rispetto per lui per quello che è riuscito a fare eh beh è chiaro la divergenza d'opinioni ma rispetto tantissimo quello che è chiaro che era una juve rispetto a quello che è venuto dopo ranieri era oro diciamo le cose come sta abbiamo passato due due annate dopo ranieri che te ne raccomando però chi vi sta stupendo eh un altro gerundio che però mi piace questa parola stupendo chi vi sta stupendo è tutto stupendo di più cinque opzioni tre minuti per votare faccio ovviamente poi eh rispondere tutti qua i miei ospiti avete cinque opzioni ok gatti cambiaso mccanny moise can ruganone gatti can mccanny cambiaso rugani tre minuti chi vi sta stupendo stupendo di più claudio uno solo ne puoi scegliere e perché ma dico mccanny perché sinceramente dopo essere stato praticamente scartato offerto a tutto il mondo senza avere richieste fuori forma con l'izzo è andato in serie b preso insulti anche in inghilterra cioè torna si allena si mette a disposizione si guadagna il posto da titolare fa pure bene sinceramente è una sorpresa Mirko? Ah io dico cambiaso perché da allenatore mi piacerebbe tanto avere giocatori come lui che sono bravi sia a fare la fascia sia a venire dentro il campo per aumentare il palleggio della squadra su questo eh su questo aspetto qui mi ha sorpreso tanto devo dire che è un ragazzo molto intelligente sarà molto utile ragazzi gatti tutti sapevamo ah tanto gatti sapevamo tutti che era così forte guardate no lo dico lo dico perché sta prendendo tipo 5 voti su 300 cioè 2% per gatti ma avete e state vedendo il sondaggio per tutti coloro che ci stanno seguendo ovviamente in tempo reale votate 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 con il vostro dispositivo la scelta di Lorenzo ma qua ne manca uno aspetta gatti Ken McKennie cambiaso e Rugani regia mettimi anche Ruganone l'uomo della settimana Lorenzo chi voti McKennie sono d'accordo con Claudio ma non ma non perché non non sapessimo chi chi fosse ma perché per questo ruolo per la continuità che sta dando e che rimane un po' però però McKennie direi McKennie Simone un cordo McKennie McKennie io temevo che anche anche il popolo bianconero vota McKennie con ampio margine oltre il 50% dei voti eh per McKennie che sbaraglia la concorrenza no no pensavo stesse mollando McKennie perché secondo me aveva fatto intravedere delle ottime cose all'inizio il primo anno e poi si era perso come dice Mr. Gatt la condizione era pessima condizione fisica la pancetta che aveva sicuramente avrà influito l'hanno mandato dappertutto pensavo fosse tornato come un pacco da tenere lì invece sta dimostrando non solo di essere degno di una maglia titolare ma rarissimo secondo me invece di rinunciare gli manca solo una cosa a questo punto direi un gol all'Inter bravo abbracciamoci forte abbracciamoci ha fatto una supercopa non è bastato è che i grandi gol di Weston McKennie alle big tutti trasferta cosa manca McKennie il gol importante in allo stadio questa è la verità i grandi gol quale migliore occasione Marco dei Principi Camp Nou San Siro no? ricordo bene forse anche il derby era in trasferta non mi piace vale